Porco! Porco! Sì, io ero fuori per salvare gli ombrelloni, per chiudere, ho girato gli occhi, ho visto il tetto che volava e mi sono buttato dentro. E' andata bene così, poteva andare molto peggio, sì, decisamente. Il Palazzo del Podestà a Bibiena, ci troviamo in Piazza Tarlati, quindi nella parte alta della cittadina, è stato letteralmente scoperchiato da questa tempesta di vento che è successa qui ieri intorno alle 18. Vedete nella piazza ancora i segni, i resti dei tegolini che sono caduti, una vera e propria tempesta di detriti, ci raccontano coloro che l'hanno vissuta. In pratica con questa forte tromba d'aria, il tetto del palazzo si è divelto, praticamente si è scontrato nel nostro, con una pioggia di tegoli che ha rovinato praticamente a noi tutto il deore, ombrelloni, ma fortunatamente non le persone e non mio marito che era fuori a chiudere gli ombrelloni in quel momento. Tanta paura, tantissima paura, fortunatamente solo danni alle cose e non alle persone. Questi sono i segni dei tegolini che sono arrivati sui tavoli. Il maltempo ha colpito soprattutto la vallata casentinese. Oltre ai danni a Bibbiena, ci sono stati danni ingenti anche a Corezzo, comune di Chiusi della Verna. Qui i cittadini sono completamente isolati. Sì, completamente, senza elettricità, senza telefono, senza modo di comunicare, niente. Che cosa è successo ieri? Alle sei e un quarto, il finimondo. Ha iniziato il vento forte, ma era una tromba d'aria, c'erano i tegolini che volavano, vasi, per cinque minuti e poi il delirio totale. Oggi non potete neanche fare una telefonata? No, no, da ieri, da ieri sera verso le otto, più o meno. No, niente, niente, siamo isolati. O prendi la macchina e vai in giù, altrimenti non... niente. Da quando? Allora, praticamente stamattina, da ieri sera è andata via la corrente e poi è ritornata a mezzanotte, ma poi siamo andati a letto, quindi niente. Stamattina non c'è corrente, non c'è telefono, non c'è niente. Insomma, una tempesta. Una tempesta? Un disastro. Un disastro. Sembrava che non fosse la casa. Lì aveva spaccato tutte le piante, dopo le persone le hanno preso le motoseghe, le hanno cominciato a tagliarle, per liberare la strada, non per far chissà che, però un disastro totale. Una tromba d'aria, dove è arrivata ha scoperchiato tutto. I danni si sono verificati anche in città, dove ci sono stati alberi caduti che hanno invaso la sede stradale ed in particolare a Quarata il vento ha divelto un pino storico nel cortile di una scuola. In Val Darno, a Terra Nova a Bracciolini, alcune frazioni sono rimaste isolate per alcune ore senza corrente elettrica, mentre a Cavriglia ci sono stati danni alla rete telefonica.